su youtube ogni minuto vengono caricati oltre 400 ore di video abitualmente tendiamo a vedere video comici prank gaming oppure curiosità tuttavia devi sapere che di fuori esistono dei canali davvero misteriosi e qui video non hanno un'apparente spiegazione vediamo dunque 5 canali più strani che ti lasceranno davvero senza parole ti preannuncio già che nella classifica ci sarà anche un canale italiano quindi mi raccomando rimani incollato allo schermo questo canale non so nemmeno come definirlo è bizzarro ma sotto sotto nasconde un velo di mistero che lo rende degno di essere illuminato all'interno di questo video non sappiamo che sia l'autore di questi filmati e quale sia il significato dietro i contenuti questo è l'esempio di video che in pratica sembra divertirsi nel far gonfiare i palloncini fino a farli scoppiare dopo circa sei mesi di inattività dan è ripreso in mano il suo canale e ha pubblicato due nuovi video i suoi contenuti non sono cambiati ma la qualità è nettamente migliorata fra la lista dei canali più oscuri sul panorama italiano white project è quello che ha tirato fin da subito la mia attenzione ti lascio vedere qualche frammento di video giusto per farti un'idea oltre al canale youtube dispongono anche di un sito web e di una pagina facebook già l'interfaccia del sito fa intuire che quello che hai di fronte è un qualcosa di atipico i loro video sono strani recitati in una maniera criptica a qualcuno capita di essere un bambino indico e poi col tempo di venire un mediocre i temi attorno a cui girano i loro contenuti riguardano la morte gli alieni l'universo la coscienza e così via sul canale ci sono video di persone col volto truccato che sotto forma di messaggi quasi criptati hanno sempre l'intento di trasmetterti qualcosa di intrigante i video sono davvero curati e fatti molto bene penso che meriti di avere più visibilità ti lascerò il link qui sotto in descrizione per poterti iscrivere ed entrarti più a fondo nel loro misterioso mondo alcuni dei loro video potresti trovarli noiosi mentre altri più intrattenenti non si riesce ancora a spiegare con quale intento sia stato realizzato questo canale i loro video sono totalmente casuali senza un filo logico strani e senza apparente spiegazione ti lascio guardare qualche frammento giusto per farti un'idea non ho assolutamente spiegazioni a quello che ho appena visto alcuni potrebbero avere paura del buio di esplorare una villa abbandonata oppure di vedere un film dell'orrore ma se io ti dicessi che esiste uno strano individuo su youtube che ti fissa e ti sorride per ore non ti verrebbe l'ansia lui si chiama benjamin vive in nord america e in più di 300 video è rimasto immobile davanti ad una telecamera con un sorriso degno da killer clown fino ad otto ore di seguito una volta durante la registrazione di uno dei soliti video un ladro fa irruzione in casa sua ma alla vista del padrone seduto e sorridente si spaventa e si dà la fuga benjamin è arrivato persino a farsela addosso pur di non muoversi dalla solita posizione tra tutti quelli mostrati oggi questo il canale più famoso e conosciuto lo youtuber che realizza questi contenuti è un animatore 3d che grazie ai suoi bizzarri video senza senso si è guadagnato quasi 1.4 milioni di iscritti i suoi video non hanno alcun filologico ma sono improntati sull'intrattenere e basta non hanno alcun filologico ma sono improntati sull'intrattenere e non hanno alcun filologico ma sono